Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse, Seguimi! Ed egli si alzò, e lo seguì. Mentre sedeva a tavola, nella casa, sopraggessero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Odito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericorda io voglio, non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori.